Quando uno vince deve essere sempre contento, soprattutto perché anche dopo una vittoria che prevede una sofferenza è liberatoria la vittoria. Anche se noi stavamo in dieci, gli avversari avremmo potuto fare molto di più. Però l'importante è mettere punti in cascina nel gergo calcistico, poi i conti gli faremo alla fine. Quindi capisco che il tifoso vuole vedere bel gioco, vuole vedere la vittoria, vuole vedere che funziona tutto quanto. Ma le partite anche quelle sofferte hanno un significato, significa che la squadra comunque ha ardentemente voluto questa vittoria. Anche se ha sofferto, se poteva fare molto di più, però alla fine ha portato a casa il risultato, questo è importante. Ma c'erano delle assenze importanti nella squadra di Colantone? Ma a parte le assenze, ma alla fine Colantone ha fatto una scelta, una scelta di preservare il risultato e quindi ha lavorato per questo nel secondo tempo. Forse magari arretrando un po' troppo, perché con un uomo in più forse qualcosa in più si poteva fare, almeno per soffrire, per evitare di soffrire meno. Ma al presupposto di non rischiare, quindi ha fatto una scelta di questo tipo. 20 punti prima di questa lunga sosta, soddisfatto? Ma guardi, io ho detto prima, questa è una squadra che quest'anno io ho allestito onestamente nel convincimento di dover confrontarsi alla pari con tutti per poter fare un passo avanti, quindi non fare un campionato da galleggiamento, ma fare un campionato in cui la società deve svolgere un ruolo. Vediamo se riusciamo a portarlo a termine, questo è l'obiettivo. Mi auguro, sicuramente abbiamo fatto tante cose per questa società, da quando sono entrato con il mio cognato sicuramente abbiamo dato un'impronta completamente diversa, una società solida economicamente, lo sapete perfettamente rispetto al panorama che c'è in giro. È una società che è in continua crescita da punto di vista non solo sportivo, ma anche organizzativo, anche infrastrutturale. Abbiamo all'istituto un centro di allenamento... L'ho visto molto bello davvero, molto bello davvero. Ecco, mi fa piacere. Quindi sono tutti investimenti che la società con sacrifici ha fatto per dimostrare che noi non siamo dei transeunti, ma siamo delle persone che vogliono lasciare un segnale forte, un segnale che peraltro qualcuno non dovrebbe dimenticare. Già abbiamo lasciato perché l'abbiamo presa dalle ceneri, o meglio era fallita la società, e l'abbiamo riportata in un calcio che adesso è di serie B, speriamo poi di assorgere ruoli diversi. Questo è l'augurio e l'impegno che stiamo fondendo per poter ottenere questo risultato.